Il segreto. Puntata giovedì 19 aprile 2018. Il passato di Julieta. Anticipazioni. Le anticipazioni della puntata di oggi de Il segreto, in onda di pomeriggio su canale 5 intorno alle 16.30, ci annunciano che Saul vorrebbe sapere cosa nasconde il passato di Julieta e Prudenzio gli promette di scoprire il suo segreto. In paese intanto Don Anselmo interviene sulla questione Beatriz Aquilino e cerca di far capire alla giovane l'errore di avere una relazione con quell'uomo. Lei però nega tutto. Maurizio assoggettato ancora di più dalla Montenegro, sfoga tutta la sua rabbia contro i braccianti. Aquilino segretamente organizza la sua fuga con Beatriz alla volta di Parigi e la giovane tenta di nascondere le loro intenzioni con bugie e stratagemmi. Prima parte. Il passato di Julieta. Alla villa i due fratelli Ortiga, parlano di Julieta. In particolare, Saul si chiede il motivo di tanti misteri che si cela hanno dietro Julieta. Prudenzio dice al fratello che riuscirà a scoprire cosa nasconde la giovane ragazza. Julieta, infatti, ha un passato molto misterioso del quale non si sa nulla. A far insospettire i due fratelli, c'è anche il fatto che nessuno sa chi sia il padre della piccola Anna né perché madre e figlia avessero sempre cambiato paese prima di fermarsi definitivamente a Puente e Ibieco. Che Julieta in realtà sia una vecchia abitante del paese, se con una parte. All'Hosman Antiales le trama si infittisce. Se la presenza di Aquilino nella famiglia è da un lato uno dei veri motivi di tanta disgrazia, dall'altra proprio nella vita di Beatrizia è, per la giovane, motivo di gioia. Il socio di Hernando, infatti, pare essere l'unico a comprendere a fondo il drama interiore della figlia. Ma lui è molto più vecchio di lei ed è anche un uomo sposato. Questo però non ferma nessuno dei due, dal continuare ad incontrarsi per parlare. Adela però ha notato gli sguardi tra di loro e teme che non si tratti solo di un'amicizia ed è preoccupata per la ragazza. Don Anselmo sente queste chiacchiere su Beatrizia e decide di parlarne con lei. La figlia di Hernando nega qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Don Aquilino, ma il parroco convinto del contrario sgrida la giovane. Ultima parte. Anche per Mauricio è un momento molto difficile. Il Godau è rimasto molto turbato dopo la morte della piccola Anna. L'uomo infatti, come Prudenzio, si sente in colpa per l'accaduto, la Montenegro però gli ha chiesto di dimenticare e lui ha detto che lo farà. È però stato un ordine quello della matrona che il capomastro cerca di eseguire, ma dentro di lui si sente davvero molto male. Infatti vedrete che finirà per sfogare la sua rabbia repressa contro i lavoratori, che mal sopporteranno i maltrattamenti del capomastro. Le anticipazioni terminano qui. A presto con le prossime trame della telenovila spagnola.